Prima di lanciare accusi a destra e a manca, ed in particolar modo alla povera gente, un'amministrazione seria dovrebbe interrogarsi sulle cause che hanno scatenato certe forme di protesta. Definire come atto mafioso una forma di ribellione, che per quanto grave rimane pur sempre un sintomo di malessere e disperazione, appare come un tentativo di non volersi assumere le proprie responsabilità, mostrandosi in tal modo assolutamente incapaci di affrontare l'importante e delicata questione nei giusti termini. E' il pensiero di Lucio Greco di un'altra Gela in merito a quanto accaduto sabato scorso in via Rio de Janeiro e via L'Indipendenza, e il riferimento è a rifiuti sparsi in strada da mani ignote e su cui i carabinieri della reparto territoriale, come dicevamo ieri, hanno aperto un'indagine. Arrivare poi a mettere in dubbio, così come ha fatto il vice sindaco Simone Siciliano, in un suo post che a Scavone vi abitano dei poveri, solo perché buttano una gran mole di cibo tra i rifiuti, dimostra, dice Greco, non solo di non avere consapevolezza della grave crisi economica, ma cosa, ancora più grave, di disprezzare la povera gente. Forse, preso come è dall'euforia di vivere un momento di apparente gloria in calza greco, non si è reso conto che nemmeno il più acceso e volgare dei razzisti si sarebbe sognato di fare una così grave e simile affermazione. Vuole negare che ci sia crisi o vuole negare alle famiglie povere e bisognose il diritto di mangiare? Con queste simili affermazioni che Greco ritiene farneticanti, non si andrà sicuramente da nessuna parte. Con un'aggiunta di tale livello, che nella migliore delle ipotesi non si rende conto di quello che dice e non ha la benché minima idea delle ripercussioni che certe incaute affermazioni possono provocare, Gela rischia di sprofondare in un baratro da cui non sarà facile risalire. Giusto e opportuno l'intervento di Don Luigi Petralia, parroco del quartiere Scavone, ma sarebbe auspicabile, visto il tema affrontato, che intervenisse anche la politica, chiamata proprio per svolgere questo compito. In un momento così grave non si può giocare a nascondino con il destino della città. Per Lucio Greco ci vogliono posizioni chiare e coraggiose.